Bene, ora ci siamo, siamo arrivati al grande momento della premiazione visto che la premiazione sarà abbastanza lunga iniziamo e chiamiamo le nostre bellissime 18 finaliste Young Lady Category Young Lady Category Young Lady Category e iniziamo con la fascia sponsor perché in questa categoria ci sono due sponsor quindi two designers choose two doors The first, Evidenzia Latina quindi io chiedo di venire qua il titolare di Evidenzia Latina di Lucevano Eccolo qui, Evidenzia Latina da la fascia ambassador della sua azienda a Jessica Teese Grazie a tutti 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 e ora un altro friend Sacher di un'importante special designer Francesca Riotto Francesca Riotto scusa for ambassador for ambassador for young lady category Rosa Reddito! And now, we start with the Top 5 Beltune Nation! The Beltune Top 5! Top 5! Beltune Category! The Beltnehmen category is... Sisi Odia! 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 Sisi Odia!